Dunque rimane ancora senza fornitura di acqua che possa essere utilizzata ad uso potabile il territorio comunale di San Valentino in Abruzzo Citeriore. In queste ore si stanno cercando soluzioni alternative anche ricorrendo alla solidarietà in qualche modo dell'ACA che ha dei serbatoi, un serbatoio in particolare dal quale si potrebbe attingere ma intanto ci si organizza attraverso autobotti e altre situazioni di emergenza. Il tutto nell'attesa di comprendere quali saranno i tempi anche in cui potrà essere riattivato l'acquedotto. Ma per le ultimissime giornate agli ultimi minuti c'è proprio a San Valentino in Abruzzo Citeriore la nostra truppo con Marina Moretti e vedo pronta con due ospiti. A te Marina in diretta. Buongiorno Carmine, buongiorno ai nostri telespettatori. I miei due ospiti sono Lino Sciambra, vicepresidente del Consiglio Comunale e il presidente del Consiglio Comunale ma anche medico di base del Paese, il dottor Francesco De Gregorio che ci ha appena raggiunto proprio in quasi fuori tempo massimo per la diretta. Intanto oggi abbiamo fatto parecchi giri per il Paese, la gente è molto tranquilla, devo dire che ha preso la cosa con filosofia. Certo ci si organizza con le bottiglie d'acqua, si spera che questa situazione duri meno possibile. Doveva arrivare l'autobotte o dovrebbe arrivare a momenti, c'è stato un piccolo ritardo ma adesso sarà proprio il vice sindaco a spiegarci dove verranno posizionati questi punti e anche da quando. Sì, stiamo aspettando proprio a minuti l'arrivo di un autobotte che porterà già dei serbatoi che verranno scaricati e posizionati in quattro distinti punti del Paese, uno in Paese, l'altro in Contrada San Giovanni, l'altro in Contrada Trovigliano e l'altro dovrebbe essere in Contrada Ciorrone, Solcano. Sono dei serbatoi di acqua potabile da cui poi le persone potranno andare liberamente ad attingere il quantitativo di acqua di cui hanno bisogno. Che significa portarsi tanniche o contenitori? Sì, esatto. Poi il quantitativo dei serbatoi verrà monitorato costantemente perché noi stiamo cercando di assicurare il rifornimento continuo in maniera tale che questi serbatoi siano sempre disponibili. Questo per tamponare l'emergenza. Poi ci sono altri provvedimenti che stiamo prendendo proprio per cercare di ripristinare. Sì, tipo il... mi aveva spiegato per telefono che vi siete rivolti all'ACA per poter utilizzare il serbatoio ACA perché ricordiamo che l'acquedotto di San Valentino è del gestito dal comune di San Valentino, non è allacciato all'ACA ma questo serbatoio è in una posizione tale da consentire eventualmente l'allaggio. Sì, abbiamo gesto all'ACA proprio questa mattina la possibilità di utilizzare il loro serbatoio e dovrebbe essere possibile con un allaccio praticamente garantire da quel serbatoio l'erogazione direttamente nelle utenze domestiche. Questo ci consentirebbe di ripristinare a breve l'uso dell'acqua potabile già direttamente all'utenza ma anche questa è una situazione, come dire, transitoria perché comunque il nostro obiettivo è quello di chiaramente poter ripristinare l'utilizzo del nostro acquedotto con l'acqua dell'orfento non appena saranno terminati i necessari accertamenti. Ecco, passiamo proprio agli accertamenti ma soprattutto alla parte anche sanitaria. Intanto, per quella che è la sua percezione, qui la chiamo in causa come medico, come stanno i cittadini che hanno avuto questo problema, un problema transitorio? C'è qualcuno che è stato peggio? Ho sentito qualcuno che in famiglia magari uno è stato male e l'altro no. Devo dire di sì, è diversa la cosa. Io stesso sono stato colpito tra sabato e domenica, ho avuto innumerevoli scariche di arroi, 30-35 durante la notte, ma poi domenica sono stato tempestato da telefonate per cui di famiglie, di persone, di miei pazienti, di altri pazienti che cercano un punto di riferimento e magari chiedevano consigli, che cosa fare, io ho fatto ricette da letto anche se stavo anche leggermente stordito in quel momento. Poi la situazione è continuata anche tutta la giornata, diciamo, tra domenica e lunedì. Adesso la situazione si va attenuando, ci sono già numerosi casi di persone che sono praticamente uscite da questa situazione, possiamo considerarle guarite o comunque non hanno sintomi importanti, non hanno nemmeno sintomi lievi e ce ne sono alcune che invece magari o perché è cominciata dopo o perché dipende dalla risposta individuale magari hanno ancora qualche problema. Comunque orientativamente intorno al 33-35% delle persone sono fuori da questa cosa. Poi, in base alle ipotesi che attualmente girano, sembrerebbe che questa forma, se effettivamente è quello il germe responsabile, sia una forma che si autolimita nel tempo. Ricordiamo che parliamo del Clostridium perfingens, se lo ricordo bene, un batterio unicellulare che è stato appunto, che è emerso letteralmente dalle analisi dell'acqua, dai campioni anche prelevati. Si attendono i risultati di altre analisi, si attendono anche i risultati delle analisi, delle feci, delle persone colpite. Insomma, c'è ancora molto che deve essere accertato. Quindi per il momento l'acqua non viene utilizzata per uso alimentare, meglio non lavarsi neanche i denti con quell'acqua. Io una cosa volevo sapere, se Carmine ha domande, poi se no... No, procedi tu Marina. Siamo brevissimi. I cittadini mi dicono, mi hanno detto, girando per il paese, che sono anche cittadini anziani, che non hanno internet, che magari non sono pratici neanche a leggere un messaggio sul telefonino. Questi cittadini come sono stati raggiunti? C'è il rischio che qualcuno non sappia nulla e beva quest'acqua o la utilizzi? Ma noi abbiamo cercato di diffondere nella maniera più massiva possibile, anche raggiungendo le persone che per l'appunto non hanno i social oggi di uso abitudinario, per telefono. A volte c'era il tamburino per le strade, no? No, per telefono credo che la protezione civile, si è occupata di questo per conto del Comune, abbia assicurato questo tipo di servizio. Poi per completare anche, perché avevo già parlato appunto con il Vice Sindaco, mi ha detto che le ultime analisi risalgono al mese di agosto, era tutto perfetto, l'acqua era perfetta, risalgono al mese di agosto, perché i tempi previsti sono quelli. Avevamo fatto anche un cenno a possibili rischi giudiziari, qualcuno magari va alla procura, fa un esposto, chiede conto di questa situazione, e voi dite che noi siamo tranquilli perché i controlli che abbiamo fatto sono quelli che vanno fatti nella norma. Noi siamo assolutamente tranquilli. Tra l'altro lei è avvocato. Sì, appunto, cioè noi siamo assolutamente tranquilli e naturalmente siamo sempre stati collaborativi con ogni tipo di istituzione, per cui voglio dire abbiamo, come dire, la coscienza a posto, se così si vuol dire, no? Allora, non resta che dire ai cittadini che le autobotti stanno arrivando, insomma, è un po' di pazienza. Carmine. Allora Marina, grazie a te e i tuoi ospiti cortesi. La situazione ovviamente si evolverà nelle prossime ore, vi rimandiamo alla edizione serrale del nostro TG, anche allo speciale alle 20.05, con anche, credo, contributi di persone che hai sentito questa mattina in giro per il Paese. Sì. Grazie, grazie, buon lavoro.